Il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche nella sua prima e fondamentale opera che è intitolata La nascita della tragedia, riporta un passo significativo della schietta saggezza del mondo greco. Egli narra che il saggio Sileno, il più vecchio dei satiri del gruppo e che fu tutore del giovane Dioniso, inseguito a lungo nella foresta da Remida che voleva sapere da lui quale fosse la cosa migliore e più desiderabile per l'uomo, messo alle strette dal re, alla fine sibilò queste parole tra risa di scherno. Figlio del caso e della sofferenza, perché vuoi sapere delle cose che ti gioverebbe non conoscere? Il meglio per te è irraggiungibile. Non essere nato, non essere, essere niente. La seconda cosa migliore è morire presto. L'antica tradizione greca, come più in generale la mitologia pagana, ribadisce il concetto del dolore e della sofferenza della vita, che è in primo luogo scaturita dalla condotta parziale e capricciosa delle divinità che governano il destino dell'uomo. Le imprese degli dèi, talvolta gloriose, sono farcite di crimini feroci, incesti, stupri e inganni, che forse a malapena le azioni giuste e sagge sono in grado di pareggiare. Secondo una consueta lettura moderna del mito, ci viene insegnato che gli dèi furono il tentativo di oggettivare le virtù e i vizi della natura umana, come una sorta di antica psicoanalisi che forniva un metodo di conoscenza del sé per mezzo delle allegorie e delle leggende narrate dei vari protagonisti. Per questo motivo la teologia di stampo monoteista affermava l'esistenza di un unico dio fatto di carità e di giustizia si accanì e fu così persecutoria nei confronti del paganesimo. Ma la fede in un unico si fatto dio creò un vuoto da riempire che venne rapidamente colmato con la collocazione di Satana, che letteralmente come abbiamo detto significa l'antagonista, signore del regno delle tenebre e delle ombre. Il mondo pagano venne in questo modo rapidamente liquidato, le potenti divinità dell'Olimpo furono zittite e le verità più autentiche furono esiliate oltre confine nella superstizione popolare e favolistica. In questo modo sono forse oggi in pochi a sapere che la complessa gerarchia divina del paganesimo non escludeva affatto la fede monoteistica. Gli antichi infatti distinguevano la creazione del mondo materiale dall'assoluto che in quanto impossibile da penetrare con la ragione umana era posto persino al di là del culto. L'inconoscibile principio generatore dell'assoluto veniva indicato nelle allegorie cosmogoniche che descrivevano il tempo in cui neppure gli dèi esistevano. Appare è chiaro dunque che gli dèi erano ritenuti i signori di un regno di molto inferiore rispetto ai domini dell'assoluto e che era appunto il regno fisico del mondo materiale. In alcuni casi a queste divinità era riconosciuto il ruolo di demiurghi e quindi di creatori della materia, ma in casi ancora più frequenti essi erano considerati solo degli amministratori delle grandi leggi dell'esistenza e perciò essi stessi erano assoggettati a queste leggi e la loro condotta era spesso iniqua. E dobbiamo ammettere che la narrativa mitologica indulge nella crudeltà e spiega le leggi dell'esistenza annegando i fatti in un bagno di sangue. Per esempio il padre degli dèi, Crono Saturno, è rappresentato nell'atto di divorare i suoi figli. È lecito chiedersi se non esistesse un altro modo per spiegare l'inesorabile processo del tempo? Se la narrativa sugli dèi va interpretata in modo simbolico, non dobbiamo scordarci le raccomandazioni degli insegnamenti esoterici che sostengono che esistono sette chiavi per dischiudere le porte del mondo simbolico. Possiamo ora tornare alle affermazioni del vecchio satiro sileno per riflettere sulla sua saggezza. Sappiamo che egli fu tutore di Dioniso negli anni tumultuosi della sua giovinezza. La tragica sentenza del satiro sul destino dell'uomo è spiegata dalle tragiche vicende in corse al suo protetto. Dioniso è un semidio e il suo destino è intrecciato a quello dell'umanità. Dioniso nacque quando Zeus sedusse, ma forse è meglio dire stuprò, Semele, la figlia mortale del re di Tebe. Quando ella fu incinta e rifiutò di concedersi nuovamente al dio, Zeus la incenerì, apparendogli in forma di folgore, non prima di avergli espiantato il feto di sei mesi del figlio che aveva in grembo e che il padre, o forse fu Hermes, cucì nella propria coscia. Quando Dioniso, concepito dal padre-madre, venne alla luce, fu da subito oggetto dell'ira di Hera, che volle punire il tradimento inflittole dal suo congiunto Zeus. Così era, incaricò i Tintani di rapire il piccolo Dioniso, che venne smembrato, letteralmente fatto a pezzi. Questo sarebbe stato l'epilogo della breve esistenza di Dioniso, ma la dea Rea gli diede nuova vita ed è perciò detto il nato due volte, affidandolo poi alle cure delle ninfe boschive e all'educazione del saggio Satiro Sileno. Come sappiamo, a Dioniso Bacco è legata la diffusione della vite da vino celebrata dagli antichi culti dionisiaci e giunta fino a noi occultandosi nei rituali cristiani dell'Eucaristia. Il vino è il succo estratto dal regno minerale e vegetale, che è equivalente al sangue del mondo animale e umano. E la sostanza che rede ebbra ed euforica l'umanità esprime la vitalità e la gioia di vivere, ma allo stesso tempo può indurre all'allucinazione, al delirio e alla violenza più efferata. Il vino è l'equivolente popolare e a basso costo dell'ambrosia, dell'oro liquido, del nettare capace di inebriare gli dèi trascinandoli nell'abuso e nella folia crudele. Sarebbe importante studiare in modo approfondito questa correlazione tra sangue e vino e forse ci porterebbe alla scoperta di un segreto terribile, tale da confermare il tragico verdetto del satiro sileno, dove l'uomo è figlio del caso e della sofferenza. Ma ciò che in questa occasione mi preme chiarire, che il vino sangue rappresenta la sostanza nella quale la tradizione antica del mondo pagano è diluita nella cultura occidentale del mondo moderno, governata dalla fede monoteistica. E questo manifesta l'idea che ogni rituale è un rituale di sangue. Chiediamoci allora se questo concetto, sopravvissuto nelle varie epoche e culture, non dischiude il segreto della verità contenuta nelle affermazioni del saggio sileno. Osserviamo da questa prospettiva la cultura del mondo moderno, propagandata dai media, dai canali di intrattenimento, dalle mode, dalla politica bellica di supremazia e di riconquista. E chiediamoci se tutto questo non possa rappresentare la celebrazione di un grande rituale di sangue, trasposto sui vari piani della nostra esistenza. Un saluto e alla prossima. Grazie a tutti.